salve a tutti ragazzi e bentornati nel dlc di darksoul 2 siamo qui nel canale di onizu che siamo arrivati al sesto episodio di questo dlc ora dobbiamo fare due cose ci eravamo lasciati qua davanti adesso dobbiamo fare un paio di cosette prima di tutto tornare umani poi ripristinare un po di incantesi che abbiamo usati contro quegli idioti lì forti che hanno roto le balle usare anche uno di questi potenti ok li abbiamo usati poi ci prendiamo una bella gemma e poi vediamo di evocare qualcuno allora questo cos'è evochiamo questo personaggio qua elli guardaceo è un pg del computer io voglio dei giocatori muro di nebbia più avanti ma va meno che me l'hai detto non lo avrei mai visto fin del 2009 evochiamo questa sindy e poi se non riusciamo a evocare qualcun altro blocchiamo questo qua eccola qua sindy del 2009 ciao sindy ti faccio anche l'inchino dai devo chiamare stata marlo qua che ci distrae nemico e andiamo eccola lì quindi non morire l'ho fatto non volevo fare questo volevo fare allora dai ok ho capito ma quello che hai evocato ora che ci faccio gaso era il borde un altro e quanti ne evoca mi sa che è meglio che mi concentro su di lei perchè continuerai a evocare cazzo che male cazzo che male cavolo ma avvisa che fai quel lavoro lì dai brigati vediamo se troviamo due che sanno giocare anzichè il computer che non ha fatto niente il computer che non ha fatto niente questo ora avremmo vinto se eravamo in due forti perché la miseria mi ha fregato perchè non me l'aspettavo che mi compariva davanti se no non stavo a bere mi allontanavo e basta l'aspettavo c'è quello che aumenta gli incantesimi cazzo che è venuto manca uno eccola lì lo so ciao bello si va? qui ci sono le mie anime ma quanto danno gli fanno non so chi è che gli ha fatto tutto quel danno ma qualcuno gli ha fatto tanto danno cavolo anche gli scheletri non bastava no no ma dai ma proprio su di me si doveva canire eh no eh questo è sfiga però eh ok magma di nuovo c'è oh sono quelle di prima mi sa vediamo se riusciamo a evocarli ma no eh che cavolo faccio dai si è bloccato tutto ok 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 ne evocchiamo anche questo ne evocchiamo anche quello dai ci riproviamo ragazzi scusate per prima non volevo ma è successo che mi ha fregato io ci sto più attento infatti dai ragazzi no no non cominciamo di nuovo eh di nuovo ci ha provato che bastarda facciamo una cosa mi ha fregato mi ha fregato mi ha fregato mi ha fregato nelle ciappette grande ragazzi grazie mille ciao belli io non so cos'è sto terremoto teschi o esca bella cagata leggi i messaggi oh eh che cavolo neanche che abbiamo finito c'è già un altro boss ok riposiamoci allora evocchiamo subito panzer questo questo sembra rimatta questo invece ed è di trascendere questi sono computer questo adesso anche questo sarà il computer vediamo cosa ci tocca sto giro anche qua deve essere tornati ma c'è la nebbia chiusa o sbaglio e perché e che cavolo sono scomparsi va bene ragazzi direi di terminare allora qua il video riprendiamo da qua il prossimo video se vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su commentate condividete iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video con Dark Soul 2 ciao ciao ragazzi